Abbiamo ricevuto l'ok dall'ufficio amministrazione che dovrebbero aver sbloccato 320.000 euro di fatture, quindi i lavoratori dietro diretta dichiarazione dell'azienda oggi avranno il bonifico dello stipendio e entro mercoledì avranno il bonifico della quattordicesima. E' stato sbloccato 320.000 euro, quindi dovremmo stare tranquilli anche per agosto e speriamo che entro fine luglio si riesca ad avere lo sblocco delle fatture del tribunale che sono alti 267.000 euro e quindi per i lavoratori ci dovrebbe essere un po' d'ossigeno che li transiterà almeno fino a fine estate.